Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una bassa pressione nord-atlantica in discesa rapida dal nord Europa verso i Balcani attraverserà l'intera penisola dall'alto terreno al basso Ionio, portando maltempo prima sulle regioni centrosettentrionali e poi su tutto il centro-sud con annesso calo termico. Il maltempo, seppur intenso, sarà rapido, con tempo in netto miglioramento già da domenica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 25 febbraio. Tempo perturbato fin dal mattino con rovesce temporali a tratti intensi a partire dalla Puglia centrosettentrionale in estinzione al resto della regione e alla Basilicata durante la giornata. Nel pomeriggio, in serata, ancora maltempo diffuso con rovesce temporali, attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata a cominciare dai settori settentrionali. La neve farà la sua comparsa sui settori appenninici della Daunia e sull'Appennino Lucano, con quota neve in rapido calo dai 1000 metri del mattino ai 900-800 metri della sera. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in calo di 2-3 gradi, mentre le minime saranno stazionarie. Venti sostenuti di maestrale dai quadranti nord-occidentali, mari da mossi a molto mossi, agitato lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Leonardo Pignataro, che ci invia questo caratteristico tramonto dalle campagne di Manduria, in provincia di Taranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.